Seconda tavola, qui siamo sempre all'inizio di gennaio e l'orario è già alzato, se si arriva magari alle 6, alle 7, poi ci si accosta verso le 8 percorrendo, si arriva in una determinata zona, poi si va avanti, però si immagazzinano nella mente tutte le immagini delle atmosfere e del percorso che si è fatto, qui siamo verso le 9 e la luce si è già alzata, una luce sempre piuttosto non luminosa perché c'è la nebbia che la filtra sempre, questi sono i tre alberi alla ricerca di un'esistenza, entrando in un grande campo, perché i tre alberi c'è stata una visione, all'improvviso ho visto, spostandosi da nebbia, un enorme albero, ma enorme, che da lontano faceva veramente impressione, mi sono avvicinato e praticamente erano tre enormi alberi da cui circonferenza non si riusciva neanche ad abbracciare con le braccia aperte, tre enormi alberi di una circonferenza enorme che partivano tutti e tre alla distanza di pochi metri da uno stesso fosso, questi alberi erano enormi e alzandosi in modo altissimo verso il cielo, poi la loro ramificazione che era enorme si compenetrava tra un albero e l'altro creando nel cielo un'immensa ramificazione, un enorme albero che sembrava un unico albero, alla base però tre alberi e da lì l'idea dei tre alberi della Trinità, cioè come se l'albero della vita fosse l'immagine dell'albero della Trinità composta da tre alberi, perché la Trinità sono tre elementi singoli che fanno un unico corpo, perciò questa idea poetica, non teologica, poetica, che però richiama l'idea teologica della Trinità, un unico Dio in tre persone, in tre forme, ha ispirato questa visione e questa contemplazione e questa meditazione pittorica, artistica e spirituale. Qui si guardava da una parte un grande campo che aveva un verde vivo perché la neve in quel campo non c'era, si era già sciolta e rimaneva un verde acquitrinoso, un verde molto forte, molto intenso e questo nero porta già con dei segni delle scritture il tema della ramificazione dell'albero, l'albero, la sua forma e la sua ramificazione molto corposa, molto forte, con questi segni molto marcati. Il senso dell'esistenza, questo senso di stupore dell'uomo di fronte alla natura è inciso con questi segni fatti con dei punti di spatola, con dei punti di punteruolo, con delle matite secche, con dei carboni duri, per creare proprio questo impatto e questa contemplazione a livello esistenziale e contemplativo con una spiritualità cristiana. Passiamo a quest'altra tavola, siamo già verso le nove e mezza, nove e un quarto, i tre alberi della Trinità nella luce dell'Eucaristia. Perché? Perché questa tematica così intensa, profonda e ricca di messaggi spirituali. I tre alberi della Trinità sono questi tre, uno, due, tre tronconi vicinissimi ma enormi, che andando verso l'altro si uniscono in un unico albero. I tre alberi della Trinità nella luce dell'Eucaristia, perché la luce che era apparsa dal biancore della nebbia, dal grigiore, dall'acquitrini che c'erano, filtra e nello stesso tempo riporta anche a distanza, a questo orizzonte, e in fondo vedeo dei grandi campi di neve ancora bianca. Perciò c'era un misto di colori freddi, biancori molto intensi che riportavano alla purezza del biancore della particola eucaristica, e questo insieme di rimandi spirituali di memoria, di memoria cristiana, nella sacralità dei sacramenti cristiani, mi portavano a elevare l'animo e lo spirito in una dimensione contemplativa, in uno spazio dove il mio animo, la mia spiritualità, il mio cuore, la mia anima interiore, era tutta rivolta alla contemplazione della Trinità nel mistero eucaristico, guardando i colori della natura. L'acqua, la neve, il bianco della purezza della neve, il verde che creava queste macchie intense rarefatte tra una zona di neve e l'altra, e ecco il quadro, il quadro che vuole raccogliere in forma poetica queste forme di preghiera artistica. Andiamo avanti con questa intensità e questa forte spiritualità interiore e vediamo questa tavola che si intitola Erba verde a gennaio, ore 10, l'orario è già spostato, siamo già a mezzamattina, ma è una giornata fredda, la neve stenta a muoversi, stenta a farsi vedere, e la nebbia stenta a spostarsi, stenta ad alzarsi, il vento è molto forte e tiene i banchi di nebbia intensi sui campi. Perciò c'è questo movimento di atmosfere, di nebbie che si spostano, a volte chiarori di spazi di cielo che entrano, ma poi vengono ricoperti ancora e a volte la nebbia sale anche dalla terra che si sta scaldando, creando dei banchi tra l'orizzonte, la terra, l'acqua che c'è ancora nei campi, della neve sciolta e alcune zone di verde che già stanno riproponendosi alla natura, al creato. Perciò vedete questa composizione, questo grande campo, questa grande atmosfera, parte tutta da questa intensa osservazione e intensa forma di preghiera tra il pittore e la natura e il creato. Continuiamo con questa tavola che si intitola Campi a gennaio ore 10. Chiaramente i campi sono uno dopo l'altro, il percorso è immenso perché si può camminare per delle ore, seguendo i canali, seguendo i percorsi, seguendo le strade principali, seguendo anche i passaggi tra un fosso e l'altro. Si può andare dal Lodigiano al Pavese fino a spostarsi anche verso, a volte mi è capitato, la provincia quasi di Piacentina, magari spostandomi anche con la macchina, facendo magari delle mezz'ore in una zona e delle altre ore in un'altra. Ma qui si tratta tra il Lodigiano e il Pavese e questa zona è una zona abbastanza ricca di varie culture e di vari campi lavorati anche con dei dislivelli. Qui abbiamo questo campo verso la zona collinosa, tra il Lodigiano e il Pavese, verso anche la zona di San Colombano e ci sono lì dei dislivelli alti, pur essendo zone ancora coltivate con i trattori e con le macchine, ma sono delle grandi distese di terreni, ma a dei dislivelli e qui allora si trovano delle atmosfere e delle forme di colore molto interessanti per le diversità di lavorazione e di atmosfera. Qui abbiamo già una presenza di un orizzonte alto con la luce del sole che ha penetrato, che ha sfondato la nebbia, questo giallo, questo molto intenso, ma il bianco della nebbia persiste, si sente ancora il senso del biancore invernale. In le zone abbiamo una zona collinosa un po' alta, un dislivello di un paio di metri e poi dei campi a dei dislivelli diversi con delle zone d'acqua, delle zone di verde, delle zone di terra e con questa composizione molto ricapitoricamente di atmosfere che sia per la stesura di spatolate, di pennellate, di acquarelli densi e di spatolate di acrilico denso e anche di olio, fanno sì che la pastosità e la forza della materia terra, fango, acqua, cielo, possano elevare l'intensità e l'accostamento del pittore nel trasportare la materia pittorica che viene lavorata per realizzare l'immagine del quadro che vuole portare non solo la sensazione della pittura davanti alla natura, ma la sensazione della pittura nella natura, davanti alla natura, con la ricerca della spiritualità cristiana, con la ricerca della contemplazione del dono del creato, con la ricerca della contemplazione dell'amore, dell'essere che ringrazia di fronte alla natura, dio creatore.